Sono stati portati in modo illegale nelle discariche della Campania avvelenando quei territori. Mi avvio a concludere sottolineando come c'è bisogno di politica e di quelle politiche che il Presidente Letta ha invocato e attorno alla figura di Silvio Berlusconi e dei suoi guai giudiziari rimane un vulnus per la nostra democrazia pieno di una politica che abbia delle maggioranze chiare e non costruite sulla base dell'assenza di una vera alternativa di governo. Però oggi non possiamo votare siccità di alcuni ministri a di fare da parte di noi deputati di poterlo discutere. Ma è comunque una responsabilità di tutti in un contesto che è unico di cittadini italiani e non di meridionali e di settentrionali trovare risoluzione di problemi con occupazione e lavoro. Dall'altra parte garantiscono anche la... Sorse destinate a progetti cruciali per il rilancio dell'economia. Provvedimenti attesi da tanti sindaci, tante imprese, tanti lavoratori... E' un decreto che... Altri ancora provvedimenti in esame come quello sulle semplificazioni... Grazie. 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 Grazie.